8 maggio, oggi è la giornata mondiale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e abbiamo deciso di scendere in piazza per dare un segnale forte. Oggi il comitato della Croce Rossa italiana di Casale Monferrato è in piazza Mazzini, nella nostra città, per portare a conoscenza di tutta la popolazione due momenti molto importanti. Infatti si stanno svolgendo parallelamente, da una parte con il gruppo giovani, un'attività rivolta ai bambini, dalle più basse età fino ad arrivare ai ragazzi un po' più grandi, di sensibilizzazione sull'impatto ambientale, sul rispetto dell'ambiente, sulla corretta raccolta differenziata e sulla salvaguardia della persona sugli incidenti domestici. Dall'altra parte invece si stanno tenendo le prove pratiche del corso 118, del corso allegato, il corso che permetterà a molti discenti del nostro comitato di abilitarsi al soccorso in emergenza, in ambulanza. Quello che facciamo quotidianamente a Casale Monferrato e non solo, perché abbiamo anche una postazione a Cerrina di soccorso in emergenza, quindi in 118. Oggi si stanno tenendo qua le prove pratiche, abbiamo deciso di aprire la visione a tutta la popolazione. Siamo scesi in piazza con diversi istruttori e monitori e con i discenti. Si stanno allenando, si stanno preparando in vista dell'esame teorico e dell'esame pratico che si terrà a breve. Sono circa una ventina e saranno pronti fra poco a servire tutta la popolazione e tenersi pronti in caso di emergenza, in caso di bisogno. Il nostro comitato lavora quotidianamente da inizio emergenza e sempre in prima linea con tantissime altre associazioni, altre realtà del territorio, di volontariato. È un periodo difficile, ma con la nostra consapevolezza e con l'aiuto di tutti cerchiamo di uscirne fuori al meglio possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.